Ciao a tutti e benvenuti a Vremos de Calcio per commentare la partita Napoli-Frosinone. Derudente il risultato per i padroni di casa, mentre i frusinati hanno motivo di gioire per il punto conquistato al Maradona che muove la classifica. Classifica che vede il Napoli mestamente ottavo, una difesa che è un vero colabrodo e per difesa intendo la fase difensiva. Ne parliamo tra un istante ma prima vi invito a iscrivervi al canale. Voglio fare un passo indietro ad una settimana fa a Monza-Napoli che per motivi ammignoti aveva fatto esaltare più di un tifoso nonostante una prestazione modesta. Oltretutto avevo cercato di spostare l'attenzione sul fatto che il Napoli aveva preso subito il secondo gol dai Brianzoli che era ben più di un campanello d'allarme. Ma come spesso accade, il risultato maschera i problemi e se oggi il Napoli avesse vinto sarebbe accaduto la stessa cosa. Tutti a festeggiare per i tre punti e a parlare di qualificazione in Champions League. Il Napoli ha sicuramente avuto un buon approccio alla gara, ha comandato la partita. Voglio spingermi oltre e dire che per buona parte dei 90 minuti il Napoli ha dominato il Frosinone ma nonostante ciò ha rischiato di perderla la partita. Perché è questo che sarebbe accaduto se Meret non avesse parato il calcio di rigore. Sicuramente tirato male da Sule, ma ciò non toglie i meriti del portiere nel neutralizzare il tiro. Una parata che poi è stata vanificata dall'incredibile errore in occasione del primo gol di Kedira. Abbiamo preso due gol da un attaccante di Serie B perché questa è la dimensione di Kedira. Ancora una volta Rachmani è stato inguardabile. Credo che questa sia la peggior stagione disputata da quando è arrivato in Italia. Il Napoli ha sbagliato tanto ma soprattutto davanti atturati, tra l'altro autore di un paio di parate decisive. Osimane avrebbe potuto e dovuto fare meglio. È mancato di precisione e questi sono errori che come abbiamo visto poi si pagano. Sicuramente sul risultato è influito il caldo. Dopo il settantesimo il ritmo di entrambe le squadre è calato, anche se è stato più vistoso nel Napoli con diversi calciatori, senza più benzina a cominciare da Di Lorenzo. In queste condizioni climatiche diventa difficile trovare le energie per attaccare e cercare il gol. Sia chiaro, questa non è una scusa. Fondamentalmente credo che Napoli-Frosinone chiuda un ciclo iniziato proprio contro la squadra ciociara. In quella partita, pur vinta, c'era stato il primo campanello d'allarme che nessuno ha saputo cogliere. Un po' perché alla fine si aveva vinto. Un po' perché noi eravamo i campioni d'Italia convinti che avremmo ripetuto un campionato simile a quello appena vinto. avendo confermato tutta la squadra, d'eccezione di Kim. Oggi con il prosinone abbiamo certificato che non andremo in Champions League per quei pochi che ancora ci credevano. Mentre io a gennaio avevo spiegato con il supporto della matematica quello che ancora oggi non ci condanna a quest'onta, ma solo per una questione di tempo. La matematica ci diceva che era un traguardo impossibile. A conti fatti, con il senno di poi, Garzia avrà pure fatto danni, anzi sicuramente li ha fatti, ma l'esonero evidentemente è rivelato un errore che si è aggiunto a tanti altri, perché nei Mazzarri, tanto meno Calzona, hanno saputo porre rimedio a questa situazione. Sì, qualche miglioramento si è visto, ma non è detto che non si sarebbero visti miglioramenti anche con Garzia. A questo punto, però, non ha neanche senso parlarne perché la controproloca non l'avremo. Resta tuttavia difficile immaginare che si sarebbe potuto fare peggio di così. Io vi saluto, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.